oh cosa succede qui finalmente stavo giocando a giochi belli perché o e non ti piace vero fai affare nel culo ciao felice di conoscerti si si rovan fai affare nel culo ciao amicio eh si è proprio la mia prima avventura nessun consiglio devi toccare la pokeball toccato fatto ciao codesta è una pochettobola chi fa il maschio chi la ragazza io la ragazza stronza ok allora mi chiamo sos che originalità di merda sincero tu vuoi chiamarti sas ok ti chiamerò ti chiami guccia però lalla e fine il rivale come lo chiamiamo unico nome per entrambi so già quello che è no unico nome per entrambi dobbiamo deciderlo avvo in tutto maiuscolo perfetto benvenuti a sinno la regione più lenta del mondo a me aumenta la velocità del testo perché non è possibile il testo è anche una bella cornice quella proprio la più gay possibile vediamo un po trovata perfetto e muoviti opzioni tornice ma per caso ti ricordi se ci fosse una pozione nel pc no perché qua praticamente funziona che il pc ti dà le istruzioni tipo premia per parlare con qualcuno ma se parli col pc lo stai già facendo quindi totalmente inutile sto sopando i miei dati sì ma muoviti ci ciò ti velocizzo è dai dai mamma stai zitta quanto ci sto metto grazie ciao avon fammi la multa come solo tu sai fare ah nel caso me lo stessi chiedendo non è che sono giù perché è successo chissà cosa cioè no in realtà si è successo chissà cosa sono un po' stano questo qui per prepararsi agli esami sta sveglio tutta la notte no perché se no dicessimi addormento poi accadono robe e così eh mi assalvano i mostri e non posso più dare gli esami se scherzi quindi la porta dell'armadio ammesso che tu abbia un armadio con la porta è un collegamento alla città dei mostri ti escono salivane e narnia si si no monster and co però grazie per aver sminchato il gioco si l'ho fatto apposta se poi ci pensiamo monsters and company è la versione divertente di narnia perché escono cose dall'armadio però è una bella roba si amo i pokemon ma se stai zitto e mi dai quel cazzo di cincia io ho chissà che prenotar tu questa volta si dai dai entriamo nell'erba e facciamoci trucidare da un bidufa a livello 2 prendi anche la rincorsa è così così mori meglio dai bravissimo lucas anche tu stai zitto e finalmente si sceglie lo starter più bello del mondo l'unico starter eh io devo ancora sceglierlo perché a quanto pare rowan si è perso nei suoi discorsi sulla metafisica e l'esistenza dell'uomo e le domande esistenziali e anche perché un panino con la marmellata cada sempre verso il basso è una legge della fisica non è vero non capisci quanto sia contento di portare finalmente platino sul canale si ma cosa c'entra questo con la fisica scusa tutto allora questo simpatico rinion piplup andrà per tutto il tempo di ruggito quindi ah no? no dopo un po' attacca vabbè io ho un paio di fulmi sguardo e li li faccio let's go let's go wala wala wii wala wala wii perchè piplup è più veloce di chimchar? giuro che si t'hai capilato una natura bruttissima in velocità io resetto tutto eh fallo va bene non mi interessa ottiti tartwig yep oh no ha preso il pokemon del tipo super efficace sul mio che inubita non l'avrei mai idea pezzo di merda esasi ho vinto sei un bravo uomo oh tra l'altro il mio tartwig è femmina wow come chimchar è maschio eh lo chiamerò ah la velocità di questo chimchar mi perplime sai che tartwig è in Spitfire con chimchar? qual è il problema di tutto ciò? non lo so però visto che tartwig è femmina potrò chiamarla Maria De Filippi visto che De Filippi io sono ma no è più Maurizio Costanzo visto che non c'ha il collo e lo chiamo Costanzo no è femmina tartwig è femmina non posso chiamarla Costanzo eeeh Costanza che ne so io cazzo perché non mi sono chiamato io Costanza? è un nome troppo brutto anche per te stai zitto andiamo al lago alla velocità della luce eccoci qua si catturiamo un pokemon leggendario con tartwig uomini con piedi oh ce l'ho fatto uomini con piedi con patate? oh chi sarà mai il primo pokemon che incontro un bidufa a livello 3 femmina eeeh lo sconfiggo dai dovrei andare a cercare come velocizzare sta merda barra spaziatrice nelle configurazioni ti voglio stare bene papà e si vola Martin Garrix 130 sobbia fine si vola cacchiamo ciao Rowan è da tanto che non ci vedevamo mi sono dimenticato di salvare ah si in realtà si ma l'ho salvato che idiota swag maria ma mi sporco le mani sono già nero pam 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 sono profugo pam pam profugo è stato mattarella a dirci che non possiamo venire in Italia stai zitta come on market va bene natura ingenua perfetto 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 è la natura che volevo sono al terzo reset ma e adesso si corre ok direi che prima mezz'ora di gioco si finita qui basta sta zitta Rosina so come si catturino grazie come al solito vi diciamo di scrivere per le domande che leggeremo tutte tutte le leggeremo dagli episodi successivi e basta sta passate per il gruppo telegram si si passate per il gruppo telegram pagina facebook e tutte le robe che ci sono sul mercato ciao ciao che bello pokemon platino che bello pokemon platino ciao 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 Grazie a tutti.